Ciao ragazzi, benvenuti su un nuovo video, oggi giocheremo a Basketball Mania che è un gioco appunto di basket mettiamo play il primo, perché stiamo ancora al primo e ci fanno subito incominciare dobbiamo arrivare a 30 canestri me la cavo bene ma voglio quando sono bravo ebbene, non sto facendo più i canestri prima tutti ora niente è tanto superato 30 38, non mi sono arrivato 40 più 4 tic dai questo qua è molto più difficile si muove qua appunto che è più difficile sto facendo proprio canestri canestri qua, mi servono vai Davide su che facciamo? ma dobbiamo rifare quello di 30 c'è guardate che punto stiamo e sto ancora a livello 1 chissà come supererò poi se supero il livello 1 se supero chissà come supererò il livello 2 oh a 30 a 30 sono arrivato fa per lo superare vai no 34 ma è buono facciamo l'altro facciamo l'altro gionsina e vai vai oh odio il tempo sui giochi oh ok facciamo di 30 vai dentro vai dentro vai dentro vai dentro funziona il trucco vai dentro 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 un po' funziona vai dentro vai dentro e basta no devo devo superare il 40 42 buono più 4 pic vai vai dentro 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 no prima dovevi andare faccio schifo vai siamo grandi manca il livello più semplice faccio provare un altro volete vedere che no più bravo di me dicendolo però vediamo a quell'altro era mio fratello comunque che in questo momento sta giocando io però sono arrivata a 42 ti dico ragazze che fotte di me è 49 suuuu eh eh ammi la matta dentro ammi la matta buttala dentro non fuori va va ah ci d'accordo se sei sii hai visto che è più forte di lui è più forte di me e ora questo è 250 questo è grazie vai questo qua nessuno l'ha superato mai no è di una nostra famiglia è finito oh ok lo facciamo schifo dai lo rifaccio uno devi rifare quello del 30 lo sai infatti lo sto rifacendo che non vedi si ci no no perché ho anche gli occhiali qui meh meh vai 20 oh e ti fermi 27 30 veloce è sparita una palla a due carina carina è andata là sul cartellone dove l'avevi sul cartellone ma perché i due che è volata vediamo può volare e poi vediamo vediamo la tre no spariscono e sei andata qua ma io là dicevo eh qual è illuminato va capito no neanche uno ma perché è sparita una palla vabbè si sa che avevo perso mettiamo un attimo stop ragazzi no vabbè il video finisce qui ci vediamo in un prossimo video iscrivetevi mettetevi e lasciate un commento mi piace al prossimo eh no e ci vediamo al prossimo video ciao A presto